Ciao a tutti, in questo video andremo a rivivere due momenti speciali in cui ho visto tanta gente emozionarsi, sognare sopra la mia musica. Vediamo dunque insieme cos'è successo. Bye bye! Ogni anno il 25 giugno si celebra sul ferino la tradizionale fiaccolata della Croce Rossa per rievocare appunto le origini storiche e noi abbiamo voluto in concomitanza con questa data supportare il monastero delle monache di Betlemme con questo concerto su ogni altramonto il cui ricavato andrà interamente in beneficenza al monastero. Una serata sicuramente che rimarrà a lungo nei nostri cuori. Grazie a tutti! Grazie a tutti!